Ciao a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la videoanalisi sui principali mercati e le strategie dei nostri trading system. Oggi è lunedì 12 dicembre 2022, una delle settimane più importanti dell'anno sui mercati finanziari. Focus di oggi sarà sui listini di Wall Street, ma un po' su tutto in generale, la situazione dell'azionario. Prima della sigla vi ricordo brevemente i prossimi appuntamenti gratuiti, mi raccomando, io vi aspetto. Abbiamo ben due webinar questa settimana e la prossima. Si inizia mercoledì 14 dicembre alle ore 18, dove parleremo di Forex, quindi situazione sulle principali valute, ma anche costruzione di strategie operative validate a mercato, quindi come tradare appunto questo tipo di asset class. E avremo poi un altro evento lunedì 18 dicembre 2018, dove invece parleremo di timing, come scegliere il timing d'ingresso su indici e materie prime. Quindi mi raccomando, io vi aspetto. Gli eventi sono chiaramente gratuiti. Ci sono tra l'altro tante promozioni riservate a chi partecipa, promozioni sponsorizzate dai nostri broker partner, che vi permettono appunto di avere servizi e trading system in maniera totalmente gratuita. Quindi mi raccomando, io vi aspetto. Trovate i link per iscrivervi o sotto la descrizione di questo video, oppure andando sul nostro sito www.tradingfacile.eu, cliccando qui sotto agli eventi della settimana, trovate il link per iscrivervi. Bene, come detto, tema di oggi, operatività sui listini di Wall Street. Nella settimana, che è tra le più importanti, se non la più importante di questo 2022, si inizia domani con il rapporto sull'inflazione americana. Anche qui si attendono indicazioni per capire se effettivamente la politica restrittiva della Fed sta dando i suoi frutti, inflazione attesa in calo, quindi in caso appunto di inflazione sopra le attese aspettiamoci un aumento di volatilità, mi avviso, associata a delle vendite sul comparto azionario. Continuiamo poi con mercoledì, dove ci sarà appunto alle ore 8 di sera il rapporto della Fed con appunto l'attesa per quella che sarà la variazione dei tassi di interesse. Anche qui atteso un aumento di 50 punti base, ma chissà se con un mercato del lavoro che si sta dimostrando ancora tonico può esserci spazio per una stretta maggiormente significativa. Procediamo poi con giovedì, ore 14.15, attesa in questo caso per la BCE, anche qui atteso un rialzo dei tassi di interesse pari a 50 punti base e si chiude poi con la giornata di venerdì, giornata delle quattro streghe, ovvero scadenze tecniche sui principali asset azionari e quindi anche qui ci aspettiamo appunto un ritorno appunto della volatilità magari ecco dopo la scadenza e dopo aver osservato le scadenze tecniche. Andando un pochino a fare il punto su quello che è stato l'andamento dell'SP500 nel corso delle ultime sessioni, quello che osserviamo è stato un deciso calo di volatilità, lo si vede bene insomma dal grafico dell'ATR qui sotto, volatilità in deciso calo e questo è l'unico diciamo ecco dato oggettivo che possiamo ricavare perché per quanto riguarda la direzionalità del mercato praticamente è impossibile diciamo ecco osservare una direzionalità marcata nel corso dell'ultimo mese. Come vedete il mercato è stato sostanzialmente piatto ad eccezione appunto di questo ennesimo attacco alla resistenza dinamica a livello anche qui più volte già segnalato perché appunto si passa per la trendline che congiunge tutti i più importanti top del 2022 quindi ci sta che il mercato faccia fatica a superare questo che ritengo sia l'ostacolo appunto maggiormente significativo nel breve. Quindi qui c'è da registrare che cosa? Che il mercato di fatto con questa chiusura negativa del 6 dicembre ha annullato questo segnale rialzista derivante appunto da questa barra del 30 novembre scorso. Qui c'è stata un'occasione di shortare il mercato sia su SP500 ma poi l'abbiamo visto anche con diversi algoritmi che sono entrati anche su Dow Jones e Nasdaq quindi shortare il mercato a partire appunto dalle 14 di venerdì scorso e quindi appunto sul pullback, sul ritest per quanto riguarda SP500 di area 3.990 posizioni che poi sono state chiuse o a chiusura o in chiusura di sessione oppure questa notte appunto su questi minimi fatti dal mercato in apertura. Personalmente mi aspetto che nella giornata odierna ci possa essere spazio per un rimbalzo mercato che per ora ha fatto un falso breakout dei minimi di venerdì e sta per ora rimbalzando e quindi mi aspetto che nella giornata odierna ci possa essere quantomeno un mini rimbalzo perché comunque l'abbiamo detto la volatilità continua ad essere molto bassa e personalmente è molto difficile impostare una strategia operativa appunto prima di mercoledì ovvero prima di assistere appunto a quella che sarà la decisione della Fed in tema di tassi di interesse. Ripeto, in caso di aumento di 50 punti base con un'inflazione che dovesse appunto registrare una giornata di domani un dato quantomeno in linea con le attese, quindi inflazione ancora in diminuzione io mi aspetto che il mercato possa andare a recuperare questa soglia fatidica spartiacque dei 4.000 punti anche se personalmente sarei cauto nell'apertura di nuovi long dai livelli attuali perché visto che il mercato comunque sta facendo evidenza della formazione di un modello di tipo testa e spalle lo vedete qui, è chiaro che un ulteriore break appunto di questi minimi quindi di area 3.920 potrebbe innescare ulteriori vendite quindi se proprio dovessi fare qualcosa in quest'area di trading range sicuramente l'orientamento è più il lato short che il long però ripeto, se non dovessero esserci grossi stravolgimenti dai dati in arrivo e se la Fed dovesse confermare un rialzo di 50 punti base magari se il mercato attaccasse nuovamente quota 4.040 punti andrebbe da un lato a superare la spalla sinistra dall'alto andrebbe ad attaccare ulteriormente questa resistenza dinamica che via via si pone su livelli sempre più bassi questo potrebbe, anzi sicuramente è da intendere come un segnale rialzista e a quel punto potremmo riprendere secondo me con un'operatività lato long su questi livelli attuali non mi piace, o meglio non è che non mi piace, ritengo ancora un po' rischioso impostare delle strategie long discorso diverso se invece magari ecco a seguito di un ritorno della volatilità e di un breakout appunto di questi minimi il mercato dovesse fare una capata magari in area 3870-3880 fino a 3850 tanto per dare un'idea su quest'area allora qui sicuramente piazzerei degli ordini pendenti in acquisto perché? Perché qui troviamo l'area supportiva appunto di breve, area che ha appunto identificato i minimi di swing dell'ultimo appunto trend rialzista di breve, su questi livelli secondo me vale la pena impostare un'operatività di tipo long a basso rischio, dico a basso rischio perché mi fermerei non sotto appunto i 3800 punti 3790 al massimo ultima considerazione legata in questo caso alle scadenze tecniche anche se va detto che per quanto riguarda i listini di Wall Street di fatto il rollover è già iniziato sul nuovo contratto marzo 2023 magari anche qui secondo me dipende molto da quello che succederà nelle giornate tra martedì e mercoledì perché se il mercato dovesse imboccare appunto la strada delle vendite magari queste vendite potrebbero protrarsi fino effettivamente a venerdì 16 e poi in questo caso a partire dalle 15.30 magari si potrebbe assistere ad un'inversione e quindi ad un ritorno appunto del trend rialzista di breve e quindi a una ripresa tanto per capirci dell'auspicato rally di Natale. Viceversa diciamo ecco bisognerà secondo me capire quale sarà la posizione del mercato nella giornata di venerdì quindi su quali livelli arriveremo alla effettiva scadenza tecnica è chiaro che in caso di rally appunto del mercato nei prossimi due giorni magari in coincidenza della scadenza tecnica si potrebbe invece assistere di contro ad uno storno ma ipotesi se arrivassimo a venerdì ad esempio con un mercato intorno a quota 4.150, 4.170 punti a quel punto da valutare magari delle vendite quindi dei pullback e magari qui valutare dei nuovi ingressi long sul pullback di quota 4.050 punti. Bene andiamo adesso come al solito a commentare alcune operazioni svolte nella giornata di venerdì dai nostri trading system. Qui vi dicevo prima appunto di short aperti su diversi mercati in concomitanza appunto con i massimi fatti dai listini di Wall Street intorno alle 14.13.40 comunque degli short per SP500 aperti a quota 3.986 punti in questo caso chiusi a 3.936 alle 14.30 quindi sfruttando appunto questo break di volatilità al ribasso prima dell'apertura del cash di Wall Street. Poi anche qui qualche altra operazione con dei gain tutto sommato contenuti. Qui altri differenti algoritmi qui per farvi vedere un'area che è stata venduta per quanto riguarda il Nasdaq nella nottata appunto di venerdì scorso ovvero quota 11.600 punti circa sul ritesto di quest'area abbiamo visto appunto diversi algoritmi entrare a mercato lato short quindi in vendita posizioni che sono state poi ricoperte poco prima della sessione dell'inizio della sessione cash. Bene io vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace e soprattutto a iscrivervi al nostro canale YouTube pagina Facebook e canale Telegram. Vi ricordo i due webinar mercoledì 14 dicembre per parlare di Forex lunedì 19 dicembre per parlare invece di indici e commodities link o in descrizione o sul nostro sito anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.